Forza ragazzi, facciamo il pieno! A Natale! Andiamo! Tasti a terra a casa vostra! Eccolo laggiù ragazzi! Teronimo! Centro! Finalmente in Blu-ray e DVD. Leggiti forte! Ehi dolcezza, devi essere appena caduta da un B-17 perché sei una bomba! Ci provano sempre! Plains 2, missione antincendio. Finalmente in Blu-ray e DVD.